Ripristino della sicurezza idraulica nel territorio comunale di Marostica. Continuano i lavori dopo i danni provocati dal maltempo nei mesi scorsi. Nella frazione di Marsan, all'intersezione tra via Scomazzoni e la strada provinciale 248, l'intervento è concluso e l'incrocio è di nuovo transitabile. Le opere hanno previsto l'apertura dell'intera area, il cui asfalto era stato sollevato dalla forza dell'acqua. Sono stati sistemati gli scarichi e le tubazioni scolanti e poi è stato ripristinato il manto stradale. Ora il cantiere procede nel lato interno alla via con l'apertura del fondo e il rifacimento delle condotte. A breve partiranno anche i cantieri per il rifacimento delle canalette in via Sant'Agata, sempre nella frazione di Marsan. Nelle aree collinari sono partite le opere di ripristino e di rifacimento delle canalette di scarico, soprattutto nei tratti di forte pendenza. Lavori eseguiti in via Costalunga tra Vallonare e San Luca e in via Fantini nella frazione di Pradipaldo.